Musica Amici della Serie D, un caloroso benvenuto ad Alessandro Pausiamo in diretta dal Riano Athletic Center di Roma dove oggi vi racconteremo la sfida tra i padroni di casa del Roma City Football Club e il Trastevere match valido per la prima giornata del girone di ritorno nonché diciottesima giornata del girone F del campionato di Serie D in qualche modo riesce ad allontanare la difesa del Trastevere Diachite prova a recuperare Tortolano, gli sfila alle spalle, gli ruba il pallone, attenzione al Trastevere Tortolano allarga il gioco sull'auto di destra per il tocco di ritorno ancora Tortolano e poi il tiro centrale, raso terra dunque le due squadre arrivano a questo incontro sicuramente con un morale molto diverso Roma City che nell'ultima partita di dicembre stava senza dubbio vivendo la miglior fase della propria stagione non solo dal punto di vista dei risultati ma anche su quello delle prestazioni ma intanto arriva la rete del Trastevere con il colpo di testa vincente da parte di Alonzi che incrocia sul palo più lontano, non può arrivarci Barone dopo dieci minuti è uno a zero per il Trastevere scambia con Dujan, poi Toskic in area di rigore, Raffini di testa alla sponda Napoleone, attenzione al mancino deviato palla che si spegne dalle braccia di Semprini ancora Bertoldi punta Corvino, poi parte il cross non ci arrivano in due poi ancora viva l'azione del Trastevere la conclusione tentata da Loporto sale il 97 cerca e trova Manoni che mette giù il pallone col fisico Manoni può andare dentro, Raffini la palla è buona, Raffini il mancino alto occasione importantissima del Roma City sei minuti più recupero alla fine di questo primo tempo ci prova il Trastevere palla dentro la girata tentata da Alonzi eccoci di nuovo in diretta da Riano Athletic Center breve inizia il secondo tempo della sfida tra Roma City e Trastevere il primo tempo si è concluso sul parziale di 1-0 Tortorano mette giù punta un avversario arriva anche Loporto a supporto poi Tortorano va dentro la palla è buona per il tocco di Alonzi che la gira all'indietro poi il piazzato col mancino di Crescenzo sfera che non arriva in porta Crescenzo Bertoldi in re di rigore il tiro potente sulla traversa di Barone palla dentro Raffini prova a prolungarla poi il tocco di Napoleoni non c'è fallo arriva Raffini col mancino palla sull'esterno della rete poi Rea allontana ma è ancora Trastevere a giocare la sfera Massimo allarga sulla destra parte un cross ci sono tre giocatori del Trastevere che però non riescono a concludere verso lo specchio della porta di Barone palla sul fondo Trastevere che attacca Rasi prova a disturbare la manovra avversaria ma il Trastevere riesce ancora a giocarla palla dentro Alonzi la mette giù si gira allarga perde Costanzo il mancino prova a incrociare sul secondo palo palla sul fondo lo porto porta palla il numero tre per De Costanzo punta l'altro numero quattordici Dujan poi lo porto il cross dentro il colpo di testa la spera che entra in porta il raddoppio del Trastevere secondo gol siglato di testa dalla squadra di mister Franco Cioci Napoleone abbono la sponda dentro per Mercanti che si gira il destro la parata e poi ancora Napoleone palla sul fondo Mancino capitolo che ha già messo il fischietto in bocca arriva il triplice fischio il Trastevere espugna il Riano Athletic Center col punteggio di 2-0 grazie alle reti di Alonzi e Crescenzo e ottiene i primi tre punti del girone di ritorno Roma City che viene inchiodato alla decima sconfitta in questo campionato partire da un commento sulla gara di oggi un 2-0 forse un po' bugiardo per quanto visto in campo cosa ne pensi? ma guarda ho finito adesso di parlare con i ragazzi secondo me il risultato è giusto quindi non stiamo qui ad aggrepparci a nessun tipo di alibi dobbiamo iniziare a lavorare con una mentalità diversa cercare di capire che ogni partita deve essere una finale dobbiamo giocarceli tutte in maniera più che propositiva